Siamo con Pippo De Gori che si sta preparando insieme a tutta la squadra a questo impegno ad Anghiari contro la Baldaccio Bruni, importantissimo perché se ci sarà la vittoria ci saranno anche i playoff, poi saranno da giocare, ma intanto la squadra avrebbe preso un obiettivo fondamentale. Sicuramente, intanto bisogna andare a Anghiari e riuscire a vincere la partita perché altrimenti non andare in playoff vuol dire aver fallito tutta la stagione, quindi il primo obiettivo è vincere domenica e poi una volta vinto vedremo le altre partite. San Gimignano e San Donato Tavarnelle sarebbero le avversarie, sarebbe anche una bella rivincita perché nel giorno di ritorno avete perso con tutti e due? Sicuramente, però ripeto, prima di sia San Gimignano che San Donato c'è la Baldaccio Bruni, se non vinciamo con la Baldaccio Bruni San Donato va a fare fasi finali senza neppure giocare playoff, quindi non avremo una rivincita, quindi a maggior ragione dovremmo cercare di imporre il nostro gioco, la cattiveria del secondo tempo di domenica e riuscire a vincere la partita. Doppietta per te domenica, una grande soddisfazione con la dedica a tua figlia? Sicuramente, sicuramente, era importante vincere, fa ancora più piacere per me che ho segnato, però ripeto, bisognava vincere in casa, una partita importante e è andata bene. C'è stata domenica anche una prova di squadra che ha convinto, forse è quello che è mancato negli ultimi mesi, l'entusiasmo è tornato, con che mentalità la squadra si sta preparando a questo impegno? Con la mentalità che abbiamo affrontato tutte le partite, bisogna imporre il nostro gioco senza avere timori, lo so che a volte in certi momenti non è facile, però il calcio è anche questo, però spero il secondo tempo di domenica il nostro periodo manchi già da colle, perché sicuramente non meritavamo la sconfitta. La squadra sta tornando anche per i campi, per tutto e quindi cercheremo, ripeto, di giocare da San Giovanni. A Anghiari troverete un campo stretto, forse lo patite un po' quello? Non bisogna patire domenica, ripeto, non bisogna avere ali, poi non è vero che nei campi stretti abbiamo sofferto, abbiamo giocato in tanti, a volte abbiamo perso, a volte abbiamo anche vinto, quindi ripeto, bisogna far conto di giocare a San Giovanni, tanto sicuramente i tifosi ci saranno, quindi quello senza ombra di dubbio. Grazie.